Tutto io ho perso tutto, l'ho investito male. La finanza dà, la finanza toglie. Il mercato è crudele ragazzi. Invece c'è qualcun altro che... Avete guadagnato, eh? A tutti quanti? Sì, sì. Ma che è vero? E poi non ce l'ho il contante per tutti, per favore adesso non ce l'ho, no? C'è un problema, niente. Ah no! Stavo a scherzare! Stavo a scherzare! Stavo a scherzare! C'era, c'era, c'era! Stavo, eccola, eccola! Finalmente abbiamo iniziato a condividere con lui. È vero? Oggi ha ascoltato e compreso i miei bisogni. È ingarbato, è veramente ingarbato. Io pure mi sento ascoltato, sinceramente. Tra di noi comunichiamo, eh? Bene. Tu, Bruno, che dici? Sì, sì, no, devo dire, guarda, comincia veramente a circolare una certa empatia, proprio. Anche per me l'empatia, come no? Sì, sì, sì. Numa, vuoi intervenire? Quello che mi sento di dire è che a poco a poco con queste persone, che ha ragione, ormai posso chiamare fratelli, ho capito che l'empatia è il migliore degli affari.